allora ragazzi eccoci qua siamo qui con la notte e il ritorno dei deadpool viventi l'ho tenuto per ultimo per un paio di motivi il primo ho fatto una scelta di dimensioni dal punto di vista dei vari volumotti qua trovate tutti i vari riferimenti anche del sito panini ma adesso andremo a parlarne nello specifico eccolo qua vedete che è la raccolta di questi doppi cioè diciamo doppia storia cioè il ritorno la notte scusate il ritorno che sono proprio questi questi otto volumi qui ma dicevo l'ho scelto di tenerlo per ultimo perché questo ragazzi è proprio un pezzo da collezione incredibile non solamente se vi piace il mondo deadpool in sé perché ovviamente questo è deadpool centrico completamente però anche se vi piacciono storie che fanno una sorta di what if ci sono infatti what if bellissimi dei personaggi marvel abbiamo visto anche quelli zombie questa storia questa ispirazione parte appunto anche un po dai diciamo così dai marvel zombies che sono stati ideati dallo stesso kirkman che era peraltro l'autore di the walking dead che ha dato un po l'ispirazione e la partenza di questo progetto ma ovviamente andiamo a parlarne ho tenuto anche un segnalibro insomma per farvi vedere alcune cose andiamo a parlarne perché così capirete bene che tipo di storia è ovviamente tutto ragazzi assolutamente senza spoiler allora punto primo voi sapete che in descrizione trovate la parte in cui vi parlo di questo di questo volume dandovi qualche elemento in più scritto direttamente dalle pagine di game search punto it trovate anche i precedenti video e approfondimenti dalle pagine di game search punto it sempre tutto in descrizione ma ancora più importante se voi diceste a devo assolutamente comprarmi immediatamente la notte il ritorno di deadpool viventi c'è anche sempre in descrizione il link al sito panini per poterlo andare ad acquistare comodamente come vi dico e come vi ho detto ragazzi fiondatevi a comprare questi volumi perché può essere che tornino può essere che li facciano li rifacciano però considerate che va tutto a trombissima velocissimissima esaurimento scorte e poi e dovete solo sperare che vengano riproposti quindi se la vostra idea è un po vacillante non esitate andate mettete nel carrello e portatevelo a casa perché questo è proprio un'opera che dovete assolutamente avere allora andiamo un attimo a capire di che cosa si tratta abbiamo il nostro eroe che come un po le storie proprio un po la walking dead un po alla survival cose di questo tipo si risveglia lui dopo una buffata mega galattica e quindi naturalmente ha dormito un paio di giorni cosa succede il mondo che già lui ripercorre un poco alla mente su quello che sono gli eventi che stavano accadendo tra l'altro sempre tutto ironicissimo perché lui andava avanti a fare il suo lavoro ma il mondo intanto si stava trasformando zombie morti viventi stavano iniziando già a riempire la città ma ad un certo punto cosa succede il mondo effettivamente crolla muore completamente ci sono gli gli zombie e lui apparentemente deadpool ovviamente resta l'unico sopravvissuto all'interno del mondo ovviamente poi scoprirà che non è così però la particolarità è anche che questi zombie che peraltro sono caratterizzati dall'essere i classici zombie però si avverte anche tra l'altro questa originalità nello zombie parlante cioè gli zombie che invocano chiedono la morte perché in realtà sono ancorati nel loro corpo zombie ma si rendono conto che non possono evitare di fare quello che fanno ma nello stesso tempo appunto lui cercherà di aiutarli uccidendoli ovviamente di vicevo si scoprirà che non è l'unico sopravvissuto come nei classici survival ad un certo punto arriva un altro gruppo di persone e la storia va avanti eccetera eccetera adesso ripeto non vi voglio fare nessun tipo di spoiler è scritta benissimo c'è tanta ironia tra l'altro ovviamente sapete che deadpool ha anche quel suo modo di fare citazionismo e infatti giustamente cita il fatto quando prende un po in giro gli zombie dicendo ah pensavo che urlaste cervelli cervelli appunto facendo riferimento ai vari cliché della parte zombie ora voi avrete notato che anche qui scelta fantastica è tutto disegnato è tutto tendenzialmente nel momento in cui il mondo cade ok quindi il mondo è trasformato in caduto dal punto di vista degli degli zombie quindi in mano ai succhi a cervelli diventa tutto in bianco e nero tranne deadpool che è colorato con i classici colori appunto della sua della sua tuta cioè di fatto unicamente il rosso che spicca dal resto quindi il rosso sangue rosso diciamo così che lui è vivo eccetera eccetera però è comunque una cosa veramente veramente molto particolare mentre invece quando si pensa al passato quando tutto era un positivo vedete la colorazione che torna ad essere fatta nel modo classico particolarissimo bellissimo ripeto costo assolutamente basso per quello che è perché veramente anche dal punto di vista di come è rilegato perché è veramente grande cioè è bello è grosso vi dà proprio l'idea di essere di essere lo è massiccio bello anche da sfogliare piacevole quindi non è delicato però nello stesso tempo di pregio e ripeto una parte che dov'essere assolutamente nella vostra collezione o come a volte vi suggerisco magari di regalarlo bene spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente potete commentare sotto condividete i nostri video i nostri articoli tutto quanto sulla pagina di game search punto it io come sempre ti do il vivi riporto di insomma tutto quello che vi ho già detto che trovate in descrizione vi saluto al prossimo video e ciao